Salve, eccoci di nuovo nella rubrica di cose di cui non frega niente a nessuno e non fanno neanche ridere. Oggi parleremo di un altro mistero che ha sconvolto il mondo del griefing negli ultimi due anni. Vi ricordate del KFT? No? Cazzo! Era la volta buona che non se li inculava più nessuno, quegli stronzi. Vabbè. Insomma c'era sto gruppo qua che grieffava con le maschere di Anonymous e poi sono spariti. E il canale misteriosamente si ritrovò senza nemmeno più un video. Ad oggi ci sono due correnti di pensiero a riguardo, una, secondo cui la gente si era rotta ai coglioni e li ha hackerati bruscamente, rimuovendo tutto. L'altra, molto meno fantasiosa, è che siano stati rapiti dai veri Anonymous, che sentendosi storpiati da quella loro casareccia presa per il culo, hanno deciso di sequestrarli e magari pure sgozzarli, chi lo sa. Spero di avervi insinuato qualche dubbio sull'ordine mondiale, ora mi levo dalle palle che è meglio. Spero di avervi insinuato.